È una squadra tosta, abbiamo trovato qualche difficoltà quando abbiamo giocato qua contro di loro perché è una squadra che gioca sempre in 90 minuti, non si fermano mai. Quindi stiamo cercando di fare qualcosa per controversare quello che fanno loro e cercare di migliorare quello che abbiamo fatto nella partita di andata. Andremo là a Kyler a cercare di vincere la partita per avere tre punti e arrivare il più presto possibile al primo obiettivo che è la salvezza.